Allora oggi Tecnomonda è arrivato a Badino perché carichiamo e carrelliamo un B2A22. Una delle prime cose che bisogna fare quando si carrella è assolutamente montare il gancio traino. Ci sono di diversi tipi, quelli già montati a scomparsa e quelli che si montano. Noi qui abbiamo a che fare con un gancio che si monta di volta in volta, altra cosa da fare fondamentale è non togliere il portatarghi, appoggiarlo da una parte. Allora siamo alla fase finale del carrellamento, vai così sereno, vai sereno. Allora abbiamo finito di carrellare, il rumone va sempre legato da tutte e due le parti a poppa in modo che si evita che si sposti così, mentre si lega sui colfari qua, poi in caso di frenata c'è sempre anche la fascia che lo viene a proprio qua. Grazie.